Voglio fare anche un altro ringraziamento e lo faccio proprio con spirito oggettivo e poi capirete che cosa significa. E lo dico così, vedete le piccole e medie imprese non costituiscono una eccezione ed una anomalia di carattere italiano, ma non costituiscono neppure un'eccezione ed una anomalia di carattere europeo, perché anche in Europa la struttura produttiva più importante e più significativa è costituita dalle piccole e dalle medie imprese. E allora mi fa piacere avere qui in sala il vicepresidente del Parlamento europeo, peraltro un nostro associato, Guido Potestà, che si è impegnato in maniera seria ed efficace ed efficiente per non soltanto con le parole, ma anche con i fatti, testimoniare questa importante e presenza. E allora noi ci auguriamo che questa tua capacità di difesa e di realizzazione e di impegno nei confronti di questa risorsa possa anche continuare in un impegno di carattere e provincia.